nuovi problemi di salute per vittorio cecchigori imprenditore ex patron della fiorentina l'ex compagno di valeria marini alla soglia degli 80 anni al momento sta scontando una pena per bancarotta fraudolenta in regime di detenzione domiciliare cecchigori che ha contratto il covid qualche mese fa sta affrontando pesanti strascichi della malattia che gli si sono presentati solo adesso ecco quali sono le sue condizioni e dov'è ricoverato l'imprenditore ed ex politico vittorio cecchigori come riporta il quotidiano libero è stato ricoverato d'urgenza a causa di problemi ai polmoni a rivelare la sua ospedalizzazione è stato antonio de luca medico personale e amico dell'ex produttore cinematografico quest'ultimo ha spiegato che nonostante al momento sia negativo al tampone abbia ricevuto tre dosi di vaccino cecchigori sta soffrendo proprio a causa delle conseguenze del covid 19 il 79 n è ricoverato all'ospedale gemelli di roma città dove risiede al momento si trova di preciso nel reparto solventi lo stesso in cui ha spiegato il professore de luca di solito riceve le cure il pa a quanto pare cecchigori si sarebbe sentito male nella sua casa situata nel quartiere parioli nella capitale accusando improvvisamente i sintomi di un'insufficienza respiratoria da qui il ricovero d'urgenza al momento l'imprenditore che sta lottando contro varie complicazioni si trova sotto osservazione le condizioni dell'ex compagno della marini sono già abbastanza precarie da tempo pochi anni fa ha avuto un grave malore nel periodo natalizio in quell'occasione è andato in coma per diverse settimane riuscendo a sopravvivere per un soffio questo evento ha favorito il suo riavvicinamento con l'attrice rita rusic sua moglie dal 1908 negli anni seguenti l'imprenditore ha vissuto un vero calvario nel settembre del 2019 cecchi gori ha subito un'operazione d'urgenza a causa di un'appendicite acuta con peritonite all'inizio del 2020 in pieno scoppio dell'emergenza covid viste le sue condizioni di salute e la sua età avanzata gli sono stati concessi gli arresti domiciliari per tutta la durata della pena da scontare per un totale di 8 anni cecchi gori è stato arrestato nel febbraio 2020 mentre si trovava nonostante sia poi tornato alla vita di tutti i giorni solo qualche mese fa lo stesso dottor de luca ha affermato che i problemi di salute del suo paziente amico non sono per niente spariti aggravati sicuramente dal covid 19 grazie grazie